Buonasera, anzi buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti ben ritrovati a una delle nostre live settimanali per cercare di commentare un po' l'attualità, soprattutto quella che è l'attualità diciamo sull'energia e sull'ambiente, le novità sull'energia e sull'ambiente. Bentornato a Costantino De Blasi, esponente di punta di Liberi Oltre ed esperto di politiche di bilancio possiamo dire e oggi parliamo di un argomento che ha tenuto banco durante questa settimana nonostante Sanremo e che è la protesta degli agricoltori, protesta che in realtà è arrivata in Italia negli ultimi dieci giorni, due settimane ma che in realtà già da metà gennaio è iniziata in Germania. Quali sono Costantino le rivendicazioni degli agricoltori? Perché sono in piazza col trattore? Allora domanda non facile a cui rispondere perché le proteste sono diverse a seconda del paese in cui si sviluppano. La Germania è stata quella che probabilmente ha fatto più rumore per ovvie ragioni, economia più grande, economia che sta facendo i conti in modo duro con la transizione energetica e quindi quella è stata la più violenta, o almeno quella che ha avuto più attenzione da parte dei medi e della stampa. In realtà la protesta inizia in Olanda qualche mese fa. Inizia in Olanda proprio su un aspetto della transizione energetica che sono gli sgravi fiscali che molti agricoltori in giro per l'Europa hanno sul prezzo dei carburanti. Quindi la protesta nasce in Olanda, arriva in Germania, poi con effetto contagio arriva ovunque. Io ho commentato forse un po' cinicamente, sarcasticamente, che molti degli agricoltori, poi la cosa in realtà me l'hanno confermata, la mia sensazione me l'hanno confermata agli amici che lavorano nel settore dell'agricoltura o che studiano questi fenomeni dal lato accademico e mi hanno confermato che molti degli agricoltori che vediamo in piazza sui trattori, sui tangenziali e a protestare nei modi che sappiamo non sanno neanche per quale ragione protestano. A livello di organizzazione le rivendicazioni degli agricoltori sono, quelli organizzati sono diverse, c'è la questione della transizione energetica e c'è la questione della PAC fondamentalmente, PAC che si combina con la tutela del territorio declinata nella nuova PAC che non è mai entrata in vigore, quella 2023-2027. Una delle parti più contestate prevede uno stop alle coltivazioni per evitare le coltivazioni intensive e per consentire una ripresa della fertilità del suolo sul 4% dei terreni coltivati. Contro questa misura, che mi dicono gli agricoltori, io so nulla di agricoltura se non per la parte relativa ai fondi europei, è una cosa che si vada sempre da secoli, si evita di sfruttare troppo intensamente il terreno e in questo modo salvaguardare biodiversità e quant'altro. Contro questa cosa, in particolare si scaliano i nostri agricoltori che hanno un problema strutturale. L'estensione media dei terreni coltivati in Italia è molto bassa, è la più bassa in Europa, più bassa persino di quella del Portogallo, tanto perché non è una. Oppure per fare un altro esempio molto interessante è rapportare la tipologia di impresa agricola italiana con quella di impresa agricola francese perché i due paesi sono molto simili per tipologia di territorio e anche per tipologia di culture. L'impresa agricola media italiana è circa un terzo di quella francese, quindi questo significa che su terreni molto piccoli effettivamente per l'agricoltore imporre, vedersi imporre uno stop alla coltivazione per effetto del ricambio, anche se c'è una franchigia di 10 ettari, l'estensione media delle imprese agricole italiane è sotto i 10 ettari. Vedersi imporre, dicevo, uno stop alle coltivazioni significa evidentemente rischiare di perdere quote di mercato, comunque ridurre i livelli di produzione. Questo è uno degli aspetti delle proteste che si stanno sviluppando. C'è anche da dire che gli agricoltori in Italia hanno già ottenuto tanto, perché sappiamo che il governo sia nella persona di Giorgio Meloni che nella persona del ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, a me fa sempre molto ridere questa cosa della sovranità alimentare. Una volta il ministro si chiamava MIPAF, adesso si chiama MAPAF. C'è questo cambio di... MIPAF per cosa stava? Politiche, allora, politiche agricole e adesso sai che non mi ricordo. Adesso hanno giunto l'addizione MASAF, giusto, sovranità alimentare, sì giusto MASAF perché l'AS sta per sovranità alimentare. Politiche agricole e forestali si chiamava prima. Adesso hanno aggiunto questa lezione per ricordare che noi dobbiamo tendere alla sovranità alimentare, cretinate enorme peraltro, se si può vedere, il fabbisogno di alcuni prodotti e l'incapacità strutturale non volontaria dell'Italia di poter essere autonoma sotto il profilo che so io della coltivazione della coltivazione, sotto il profilo del bestiame o del grano. By the way, questo governo è molto dalla parte degli agricoltori, lo esprime tanto con il ministro quanto con Giorgio Meloni, quanto anche e soprattutto con la Lega di Salvini. Beh, la Lega di Salvini era dalla parte degli agricoltori fin dai tempi delle quote latte, è sempre stato uno. Sì, che ci hanno fatto pagare cari amari, certo. E noi l'abbiamo subito e tutti i cittadini italiani hanno pagato in quota parte la multa pesantissima che abbiamo ricevuto per effetto delle quote latte. Tra l'altro la questione delle quote latte in qualche modo ritorna, ci arrivo dopo, perché quella è una questione proprio di scuola, su come funzionano le politiche agricole, ci arrivo dopo. Quindi gli agricoltori hanno ricevuto tanto. Vai, dimmi. No, no, avevo una domanda. Mi sembra di aver capito che alcune delle rivendicazioni degli agricoltori siano già state accolte, mi sembra, dalla Commissione Europea. Sì. In particolare quella dello stop alla rotazione, diciamo, il 4% dei terreni, mi sembra che sia stata accolta in parte, ho capito male. È stata accolta in parte, è stata accolta anche la parte che riguarda i pesticidi, l'utilizzo dei pesticidi. Quindi gli agricoltori hanno già tenuto qualcosa. Poi c'è la specificità degli agricoltori italiani, naturalmente, che vogliono di più, che sanno di non potersi reggere sul mercato e che quindi cercano dall'Europa, ma ancora di più dal governo italiano, una serie di garanzie e di tutele che poi, se vuoi, andiamo anche a delencare, perché le rivendicazioni sono tutte quante sul tavolo ancora. Nonostante abbiano già ottenuto tanto. Tanto per fare un esempio e dare un ordine di grandezza, Luca, a quello che hanno ottenuto gli agricoltori, già nella legge di bilancio è previsto una serie di aiuti, sono previsti una serie di aiuti che aggiungono la PAC, che valeva 2.3 miliardi di euro. A questo, la settimana scorsa, il governo ha aggiunto altri 300 milioni di aiuti. In più, si è dichiarato disponibile il governo a fare alcune misure, forse diciamo così, più di cornice che non sostanziali. Per esempio, l'istituzione di un fondo contro le calamità naturali, alimentato anche questo con 300 milioni di euro. Agevolazioni per l'accesso al credito. Agevolazioni che peraltro gli agricoltori già hanno, perché possono accedere al credito a tassi molto agevolati, prossimi allo zero, con garanzia da parte dell'ISMEA, che è l'ente governativo che si occupa appunto del settore agricoltura. Queste sono tutte cose che hanno già ottenuto. Poi c'è altre cose che verranno martedì prossimo, perché ci sarà un emendamento al decreto mille proroghe in cui il governo Meloni ha promesso di inserire altre agevolazioni in altre cose. Posso dire che una delle rivendicazioni degli agricoltori io la trovo condivisibile in qualche misura. Nel senso che la politica europea sugli OGM è una politica di moratoria e se vieti gli OGM, in moltissimi casi, non sempre, ma in moltissimi casi, devi fare un maggior ricorso all'uso di fitofarmaci. Perché ovviamente se hai una pianta OGM è fatta per resistere a determinati parassiti, se non ce l'hai devi ricorrere ai fitofarmaci e ai pesticidi. Quindi porre degli stop all'uso dei limiti, all'uso dei pesticidi senza liberalizzare le culture OGM sostanzialmente per gli agricoltori vuol dire una diminuzione delle rese senza nessun vantaggio significativo. Cioè purtroppo l'Europa da questo punto di vista sugli OGM ha fatto una politica negli anni pessima. Ora io poi non so se gli agricoltori sarebbero interessati al discorso OGM. Alcuni sì, alcuni dicono io ho bisogno dei pesticidi perché se non i pesticidi mi tocca importare il mais OGM per farci mangimi. I pesticidi sono la via più breve e più economica naturalmente. Per molti. Ma lascia che aggiungo una cosa a quello che hai detto tu perché poi si crea confusione e non è il caso di creare confusione. Possiamo secondo me dire tranquillamente che l'Europa su alcuni fronti, su alcuni dossier che sta creando più confusione di quanto sia necessario. Sulla questione dell'agricoltura è l'Europa innanzitutto aver creato confusione. La transizione energetica in modo in cui è condotta molto ideologica, molto fatta per slogan, crea confusione, crea malcontento, crea problemi nelle filiere del valore. Ammesso e non concesso che quella dell'agricoltura sia una filiera del valore. Adesso i miei amici agricoltori si incazzano con me ma sanno come la penso. Quindi c'è una grave responsabilità dell'Europa. Ho messo in evidenza un commento che è un'altra cosa che è una scemenza, però di nuovo noi abbiamo stumito del bio. In realtà come evidenzia Bressanini nei suoi video non ci sono differenze significative. In doppio cieco nessuno è in grado di distinguere l'ortaggio bio da quello convenzionale. Quindi bio vuol dire ridurre le rese per ottenere una certificazione che ti consente di vendere il prodotto pubblicizzandolo in modo diverso, però non è nessuna offerta più alta. Vai pure avanti. No, lo dicevo, quindi alcune rivendicazioni gli agricoltori italiani se riuscite a portarle a termine. Il pacchetto agricoltura del governo che verrà ulteriormente incrementato col prossimo appuntamento di martedì, dove sono previsti alcuni vendimenti al mille proroghe, proprio nella direzione di accontentare gli agricoltori, vale già circa scarsi 3 miliardi di euro, che non sono affatto pochi per una filiera che in Italia genera un valore aggiunto di circa 30 e tanto, sia in valore assoluto che in valore relativo. A cui, ripeto, poi si devono aggiungere i fondi europei che valgono in circa 5 miliardi e che dovrebbero andare a regime entro il 2027 a 7 miliardi per l'Italia. Complessivamente valgono circa 60 miliardi i pacchetti annuali per tutta l'Unione Europea. Poi ci sono altre rivendicazioni che stanno facendo, per esempio una che trovo, almeno secondo il mio parere, abbastanza singolare, anche se potrebbe avere un fondo di razionalità. Gli agricoltori chiedono che ogni qualvolta chi deve decidere in materia di agricoltura bisogna aprire un tavolo tecnico con il governo da una parte e le organizzazioni agricole dall'altra. Che, ripeto, da un punto di vista della concertazione allargata può avere anche senso, però mi chiedo anche come si possa fare questo e che cosa può portare questo laddove le istanze vengono già rappresentate da forze politiche. Se noi dovessimo accettare questo tipo di concertazione particolarmente allargata e invasiva, qualunque categoria potrebbe pretendere che laddove si deve discutere in sede legislativa, la qualunque, i commercialisti, i cosi. Voi legiferate sul mio ordine, sulle condizioni secondo le quali io devo lavorare soltanto se parlate con me. Mi sembra francamente una forma particolarmente pericolosa in termini di efficacia dell'azione legislativa, tra l'altro fuori anche di problemi, di discussioni infinite. Sì, c'è il rischio poi quello che invece di, cioè tu convochi questo tavolo tecnico e di fatto questo invece di avvantaggiare l'azione legislativa la blocca. In Italia abbiamo esperienza dei servizi e queste cose qua che impiegano sempre dei tempi enormi. Esattamente, esattamente. Poi altre rivendicazioni che stanno portando avanti, beh c'è quella classica che io personalmente non condivido, ma anche lì posso comprendere per quale ragione si spendano tanto, che è la questione relativa ai prezzi dei carburanti. Gli agricoltori godono di un sistema dei prezzi vantaggioso per effetto della cancellazione dell'accise. Non sono l'unica categoria. Ai SAD, ai sussidi ambientalmente dannosi, accedono per esempio altre categorie quali gli autoresportatori, anche loro molto pronti quando si deve protestare perché vengono minacciati della cancellazione di questi sussidi e anche loro con gli stessi mezzi, nel senso che bloccano le strade, le autostrade delle tangenziali con grande facilità, gli autoresportatori, e lì bisogna trovare una forma di, in qualche modo, di compromesso. Io non so francamente quale può essere il compromesso. Se è vero come è vero che si sta tentando di spostare o di ridurre comunque le emissioni con le norme che conosciamo e di cui tu hai parlato tante altre volte, non vedo come non si possa partire anche dalla cancellazione, almeno di alcuni, magari una cancellazione graduale, però di alcuni sussidi all'utilizzo di carburanti fossili. Io su questa cosa qua, come dire, se ne può discutere, la cosa che ho trovato veramente fuori dalla realtà è stato vedere l'ultima generazione che è a favore degli agricoltori che, voglio dire, è letteralmente il sussidio ambientalmente dannoso che loro chiedevano di abolire sei mesi fa. Cioè sei mesi fa, quando io ero in live da Ivan Greco con quelli di ultima generazione, gli avevo preso l'elenco dei sussidi del Mase e gli avevo detto che vediamoli uno per uno e c'era esenzione dall'IVA, dalle accise sui carburanti per gli agricoltori, per gli autotrasportatori, per questo e per quest'altro. Ora, si vuole abolire, gli agricoltori protestano e tu sei dalla loro parte. Cioè è una dissonanza cognitiva pazzesca. È un cortocircuito assurdo e questo mi fa anche pensare, cioè è l'ennesima prova, non è che mi fa pensare, è l'ennesima prova che chi si dichiara ambientalista non conosce minimamente la materia, non ha la più vaga idea di che cosa siano i SAD, di che cosa sia la politica ambientale, di quali sono gli obiettivi e di come si possono raggiungere gli obiettivi. Ho parlato di riflesso plavoliano, hanno visto qualcuno che protestava contro un'istituzione considerata terza, che è l'Unione Europea, e si sono messi anche loro a protestare insieme a, adesso anche qui, gli agricoltori mi perdonino, si sono messi a protestare insieme agli inquinatori, quelli di ultima generazione. Sì, sì, no, ma è allucinante. Poi anche si sono uniti anche quelli dei Fridays for Future, perché pur dicendo che alcune delle rivendicazioni agli agricoltori sono, diciamo, discutibili, hanno detto che comunque se è una dimostrazione che il sistema non funziona, bisogna cambiare il sistema produttivo, che, voglio dire, mi sembra che, cioè, va benissimo, però smettila di definirti ambientalista, definisciti comunista, lotta per cambiare il sistema come ti pare, però se sei disposto a metterti dalla parte di chi lotta contro le politiche ambientali perché l'importante è cambiare il sistema, allora le tue priorità non sono altre, non so come dire. Certo. Sì, poi ci sono altri tre punti e questi, questi secondo me sono difficili da raggiungere, ma per una banale questione di cassa. Allora, loro hanno ottenuto per adesso l'estensione dell'IR per fino a 10.000 euro, per tutto il 2024, quindi misura non strutturale ma temporanea. Non essendoci cassa, il governo dovrà fare conti con una serie di sfide importanti, una delle quali è derivante dal fatto che, diciamo, l'eventuale cassa aggiuntiva è già occupata dagli effetti del bonus 110%, quindi ogni volta che dovrà fare una misura di spesa oppure di mancato incasso, il governo dovrà fare i conti con questa spada di damocra che è sulle spalle, e dall'altra parte è stretto all'interno del patto di stabilità e crescita che è stato firmato, che ci porta automaticamente in procedura di infrazione quest'anno e che ci potrebbe portare ad un procedimento di infrazione anche negli anni futuri, perché non viene rispettato il patto di stabilità e crescita per il prossimo quadriere. Il governo ha veramente pochissima cassa per fare, diciamo così, elargizioni, regali, chiamiamoli come vogliamo. E questo è il primo punto, quindi è difficile che si vada oltre i 10.000 euro e è difficile che si vada oltre i 10.000 euro anche oltre il 2024. L'altra cosa che chiedono gli agricoltori, anche questa con lo stesso tipo di impatto, è l'abolizione oppure la riduzione delle liquide IVA su alcuni prodotti. Noi sappiamo che sui prodotti agricoli in generale c'è un IVA al 4%, quindi significherebbe l'abolizione dell'IVA su questi prodotti. Per altri, come il vino, l'IVA al 10% e loro ne chiedono la riduzione probabilmente al IVA. Anche qui si tratterebbe di mancato incasso, di mancato oggetto di dover di governo con le ripercussioni che sono facilmente immaginabili. Infatti su questo, anche se non si espone, so che Giorgetti, che deve tenere i conti comunque sott'ordine, fa delle fortissime resistenze. Vedremo come andrà a finire. L'altra cosa riguarda i prezzi. Allora, e qui entra in gioco l'Europa. In Europa esiste un sistema di sostegno al prezzo. Tanto è vero che una parte molto consistente delle PAC, dei due fondi principali che vanno in agricoltura, vanno proprio a sostegno al reddito attraverso il meccanismo dei prezzi. Quindi una cosa c'è già. Evidentemente viene considerata insufficiente. Pensare di adottare dei prezzi minimi. No, facciamo un esempio. Adesso lo tiro un po', diciamo così a campare perché poi i prezzi del prodotto prima della distribuzione non li conosco. Supponiamo che oggi il prezzo per effetto appunto di questi meccanismi venga fissato a un euro per il produttore. Loro dicono dobbiamo mantenere i prezzi per mantenere i livelli di reddito adeguato. Quindi quell'euro è insufficiente e dobbiamo portarlo a un euro e tre. La strada che si è seguita, che è l'unica possibile, o almeno che è l'unica con minimo di razionalità, è quella che per esempio si è rappresentata con le quote latte, di cui parlavamo prima, che quindi ritornano. Cioè distruggo oppure impedisco che venga prodotto di più, altrimenti per effetto di un meccanismo di domanda e offerta, il prezzo, quando il mercato è inondato da offerta, il prezzo ovviamente scende. Quindi il meccanismo più razionale è quello lì. Distruggo l'overproduzione. Loro invece vorrebbero mantenere l'overproduzione mantenendo però dei prezzi che sono imposti per legge. Questo a parte andare contro tutte le regole europee, è anche di difficile attuazione e probabilmente se non fosse difficile attuazione e si attuasse, probabilmente provocherebbe uno shock sul lato dei prezzi importantissimo, probabilmente pesantissimo, sia per chi lavora nella filiera che per il consumatore. Dimmi. No, la mia domanda è come è possibile fare questo, nel senso che se c'è un surplus di domanda, scusa, un surplus di offerta rispetto alla domanda e però c'è un prezzo fissato che è minimo. Quell'eccesso di produzione non verrà acquistato, come obblighi la gente a comprare il prodotto. Per questo non funziona. Per questo non funziona. Non può funzionare. Questa è una delle richieste che fanno, che è totalmente realistica. Totalmente realistica. Oddio, i prezzi il governo ha la possibilità di fissarli, volendo. Però bisogna uscire dalla logica di domanda e offerta. Quindi fare un mercato che è controllato, però gli effetti di un mercato controllato sono imponderabili e sono pericolosissimi, tra l'altro, per gli stessi produttori. Ora, qualcuno prima ha fatto la domanda e quindi la ripropongo in questo momento perché mi sembra... Io, da quanto ho capito, mi sembra di capire che gli agricoltori si lamentano del fatto che la grande distribuzione acquista i loro prodotti a prezzi troppo bassi rispetto a quanto li vende. Cioè, loro lamentano una speculazione da parte del distributore. Quindi, come dire, la prima domanda è, ma se questa cosa è vera, non possono... Perché deve intervenire il governo? Non è una cosa che dovrebbe riguardare, diciamo, tra le aziende agricole e le aziende della grande distribuzione, i supermercati, io non lo so. Quindi perché è necessario un intervento del governo? Non si possono, ripeto, mettere d'accordo. Tanto più che, voglio dire, i contadini sono quelli che hanno il prodotto, quindi possono dire io non te lo vendo se non a una certa cifra e quindi... E la seconda domanda che, visto che ne hai parlato prima, perché hai menzionato, diciamo, di sfuggita al tema, è quella della dimensione di impresa. Le imprese italiane sono molto piccole, avrebbero più potere negoziale rispetto ai distributori se invece fossero consorsi più grandi e, visto che in Italia i consorsi agricoli sembrano avere molto potere, col diretti e conflagricoltura, perché questi consorsi non fanno quello che dovrebbero, cioè difendono gli interessi degli agricoltori di fronte ai distributori? Cioè perché deve intervenire lo Stato in quella che è una disputa tra due diversi settori economici circa, diciamo, le modalità di acquisto di domande e offerte tra di essi? Allora, sì, qui in parte si possono dare delle ragioni agli agricoltori, ai produttori, diciamo così, però con dei caveat che adesso ti spiego. Allora, da una parte è vero, la grande distribuzione ha potere contrattuale notevole, tant'è vero che poi gli agricoltori quando devono vendere la grande distribuzione si organizzano in cooperativi o consorsi, proprio per essere più grandi e più forti e il prezzo non viene fatto dal piccolo agricoltore verso la grande distribuzione, ma viene fatto dai consorsi e dalle cooperative. La cosa assume un rilievo importante nei momenti di shock. Quando c'è uno shock sul lato dell'offerta, la dinamica dei prezzi non segue la dinamica di domande offerta, almeno non lo segue in modo puntuale e non lo segue in modo repentino, perché la grande distribuzione fa freno. Essendo i contratti di solito di durata relativamente lunga, la grande distribuzione non ha voglia di intervenire sui prezzi finali del prodotto. Quando interviene sui prezzi finali del prodotto, probabilmente lo shock o è diminuito di impatto oppure è stato completamente assorbito. Questo lo so per esperienza diretta, perché per alcuni anni ho gestito aziende che vendono alla grande distribuzione e so quanto i patti che vengono stipulati alla grande distribuzione in qualche modo siano patti rionini. Cioè è difficilissimo proprio intervenire, proprio difficilissimo intervenire, questo lo dico per esperienza personale. Detto questo però, il problema dei prezzi, cioè della differenza tra prezzo e la produzione e prezzo poi che arriva al pubblico, non sta tanto nella grande distribuzione organizzata, ma sta più che altro negli altri passaggi di filiera. La parte più grande di aumento di prezzo tra produzione e consumatore finale sta nella trasformazione. Cioè la mela, che deve essere lavata, imbustata e poi distribuita, quella parte lì della filiera è quella che incide di più sull'aumento di prezzo. Di dentro ci metto anche il trasporto. La differenza successiva è, non dico trascurabile, ma sicuramente molto inferiore. Cioè la grande distribuzione a margini operativi del 10-11%, non di più. Tutta la parte invece mediana, che c'è fra produttore e quindi trasformazione e trasporto, quella lì incide anche per un 40-45% sul prezzo finale. Quindi se si volesse agire in modo da avvicinare il prezzo di produzione al prezzo finale, la parte che bisognerebbe aggredire o comunque provare a regolare, a regolamentare, sarebbe quella mediana, non quella finale. Perché la grande distribuzione ti dice anche che oltre al rischio di imprese, oltre ai rischi di tutti quelli che sappiamo, e così via, compresi i controlli che hanno un loro valore anche economico, il loro margine operativo è comunque relativamente basso. Ripeto, mediamente intorno all'11%, in alcuni casi siamo molto al di sotto del 10%, quindi lì c'è poco spazio per intervenire. Dove ci sarebbe spazio per intervenire, ma facendolo in modo razionale e non in modo imperativo, sarebbe nella parte mediana. Quindi trasformazione e trasporto. Ok, scusa, ti faccio una domanda perché l'hai detto, ma non sono sicuro di aver capito il motivo. Hai detto che la distribuzione nei confronti degli agricoltori è al coltello dalla parte del manico. Ma perché, voglio dire, se gli agricoltori sono organizzati in cooperative e confederazioni e quant'altro, nel momento in cui la distribuzione dice io compro solo a questo prezzo e loro dicono noi a questo prezzo non te lo vendiamo, perché il coltello dalla parte del manico c'è la distribuzione? Perché se tu vuoi avere il tuo prodotto sul bancone frutta dell'Slunga, perché l'Slunga ti dà, dico, cito Slunga, potrei citare Unicop, ti dà un vantaggio, ti dà un vantaggio in termini di riconoscibilità del prodotto, di riconoscibilità della filiera, di posizionamento in generale sul mercato. Quindi tu cerchi di accedere al bancone di S1, perché ti conviene, perché ti dà ritorno non soltanto in termini di prezzo. Poi, ripeto, quando devi adeguare i prezzi, perché è successo qualche cosa, io parlo sempre di shock, perché quello che ho vissuto, che è stato più pesante dal punto di vista proprio dell'equilibrio di un'azienda, è stato quando c'è stata la prima fiammata inflattiva. La prima fiammata inflattiva non è stata scaricata sui prezzi al banco, perché Slunga, Unicop, Despar, tutti quelli che vuoi, in generale la grande distribuzione organizzata era forte dei contratti che erano stati stipulati prima dello shock. L'adeguamento è arrivato soltanto molto dopo, quando lo shock era stato già largamente riassorbito. Quindi i problemi di prezzo li ha avuti fondamentalmente il produttore o il distributore alla GDO. Ok, capito. Stavi, eri arrivato a un certo punto, non so se ti ho interrotto o se avevi finito. No, questa parte qui l'ho finita. Ok. Salvo Campisi che dice che vende limoni alla Slunga, quindi penso che possa confermare. Essere sul banco di un grande distributore riconosciuto per qualità, per visibilità, è importante. Ci si fa la guerra fra produttori per essere... Ok. E qua Salvo Campisi dice che bisognerebbe mettere un tetto al ricarico al dettaglio. Però abbiamo detto che in realtà la trasformazione da prodotto agricolo a prodotto sul banco del supermercato è quella che crea il maggior valore aggiunto. E' la trasformazione che costa di più, sì. E' la trasformazione che incide per un 40%. Il resto sono poca roba. Quindi se uno vende limoni... Cioè i limoni di Salvo Campisi, scusami Luca, lui dice li vende a un euro e venti. Arrivano al prezzo al consumatore a due euro e quaranta. Di questi due euro e quaranta hai la maggior parte del prezzo della differenza, no? Il prezzo raddoppia. La maggior parte di questo incremento di prezzo sta nella trasformazione nel trasporto. Non sta nel prezzo venduto al banco dall'Slunga. Quei margini li conosco proprio bene, no? Perché ci ho lavorato su quei margini. Quindi so di che cosa sto parlando. E la trasformazione nel trasporto che costa molto. E' lì che si potrebbero fare delle economie. Poi c'è anche un altro aspetto che riguarda il terzo punto, secondo me un po' surreale, che viene chiesto. Quando andiamo in un supermercato, noi abbiamo una pluralità di prodotti, no? Con denominazioni di origine esposta, perché così dice la normativa. Per cui se voglio comprare i limoni, tanto per restare all'esempio del nostro amico, il consumatore ha libertà di scelta. Quello che vorrebbero fare per proteggere il loro mercato e gli agricoltori è ridurre la possibilità di scelta del consumatore. Quindi introdurre dei razzi oppure vietare l'importazione di alcuni prodotti da alcuni paesi. Cosa che evidentemente con i paesi europei non si può fare. Sullo sfondo c'è l'Ucraina che dovrebbe, potrebbe entrare in Unione Europea relativamente presto. Non subito, non fra due anni per intenderci, ma molto più in là. E quindi molti produttori agricoli hanno paura dei prodotti a basso costo che potrebbero arrivare da Ucraina, Georgia, Moldova un po' poco in realtà. Un po' la guerra che è stata fatta, di cui si è parlato tanto. Peraltro in termini assolutamente sbagliati qualche anno fa con l'olio tunisino. Vietiamo l'importazione dell'olio tunisino perché viene venduto a un prezzo che è un terzo rispetto all'olio extravergine d'oliva DOP italiano, quando in realtà il problema non era quello. Come i produttori di olio sanno benissimo. Ti rifaccio la domanda che ti ho fatto prima perché non mi pare che tu abbia risposto, nel senso che poi abbiamo avuto una digressione. La dimensione dell'impresa agricola italiana è un fattore rilevante o no? Nel senso che se tu prima hai detto che le imprese italiane sono più piccole, sono un terzo in media rispetto a quelle francesi, e ovviamente viene da chiedersi se le imprese italiane fossero più grandi avrebbero più potere contrattuale o comunque potrebbero in qualche modo creare maggior valore, maggior valore aggiunto perché, non so, ammortizzando i costi diversamente, non lo so, non è il mio campo, oppure se non cambierebbe nulla. In effetti anche gli agricoltori francesi protestano, quindi non so, magari invece non cambierebbe nulla. La dimensione tipica dell'impresa agricola italiana, che è quella del piccolo consorzio, del piccolo produttore, ha un ruolo in questa situazione, chiamiamola, di crisi dell'agricoltura o non c'entra niente? No, no, c'entra molto in realtà, perché se tu sei più grande hai possibilità di fare innovazioni, meccanizzazioni, migliorare l'economia di scala, lavorare sull'utilità marginale. Quando hai un fondo di 8 ettari, come la media, 8 virgola qualcosa, i miglioramenti che tu puoi apportare alla tua coltivazione sono estremamente ridotti, e comunque lavori su volumi molto piccoli, per cui anche il venire meno di una parte del margine mette a rischio la sostenibilità della tua impresa. Le aziende, il nanismo delle imprese italiane e imprese agricole italiane è lo stesso identico del nanismo di tutte le altre imprese italiane. È un fattore di competitività che viene assolutamente meno. Quello sarebbe un altro campo su cui lavorare, nel senso favorire la creazione di imprese più grandi. E non attraverso il consorzio. Il consorzio ti lascia, come dire, la tua specificità di piccolo, piccolissimo produttore. Il consorzio mette insieme i produttori e poi va a contrattare. E anche lì mi viene il dubbio, ma questo non lo posso sapere con certezza, anche lì mi viene il dubbio che le condizioni trattate dai consorsi qualche volta sfavoriscono i piccoli produttori. La strada sarebbe quella di rendere le aziende più grandi e più efficienti. E infatti questo diciamo qua chiedono perché soprattutto il sud non si è mai voluto evolvere l'agricoltore, fare massa per crescere anche diventando trasformatore e distributore. Mi viene da dire che in Italia è un atteggiamento un po' generalizzato, non è una cosa che riguarda solo gli agricoltori. Noi siamo ancorati un po' ovunque a modelli di business datati, che chiamiamo tradizione. Qualche volta è tradizione, qualche volta è privilegi a cui alcune caste non vogliono rinunciare, penso ai balneari. Sì, ma vedi, poi c'è un corto circuito. Fintanto che l'agricoltura è un settore massicciamente sussidiato, la sfida che viene sentita non è tanto quella di rendere l'azienda agricola più efficiente. La mia piccola azienda agricola sta bene così com'è perché tanto arriveranno i sussidi. E io cercherò di accaparrarmi i sussidi. Quindi il sussidio, così massiccio, così esteso, così anche importante a livello quantitativo, è un freno allo sviluppo dell'impresa. Perché punterò, egoisticamente, e con poco senno, diciamo, con poca visione, punterò a ottimizzare la mia partecipazione alla spartizione di sussidi, piuttosto che a rendere efficiente la mia azienda. E quindi renderla più grande, più meccanizzata, più efficiente e insensolato. Sarò tentato di rimanere piccolo, magari cercando la piccola evasione, cercando al sud, sappiamo, della piaga del caporalato, che poi tra l'altro non è soltanto al sud. Quindi cerco in qualche modo di arrangiarmi perché punto ai sussidi, punto al fatto che lo Stato non è in grado di controllare o non ha voglia di controllare, tante realtà, e quindi non faccio innovazione perché non sono stimolato a fare innovazione. E in tutto questo si sono, ovviamente si sono mescolate a queste rivendicazioni degli agricoltori, anche alcune assurdità, no? Tipo il no alla carne coltivata, no al cibo sintetico, no alla farina di insetti, che, voglio dire, il cibo sintetico non è una realtà, cioè si parla di autorizzare la possibilità di studiarlo ed eventualmente di avere, non so, qualche prodotto di nicchia in qualche ristorante strano tra qualche anno, non è una roba che, come dire, minaccia di invadere il mercato, come invece magari potrebbe essere davvero il grano ucraino, ecco. La farina di insetti costa 70 euro al chilo, sembra che debba, come dire, portare via a chissà il mercato di tutti quanti, c'è Salvini che adesso ha fatto il decreto per, ha detto, vieteremo la farina di grillo nelle mense scolastiche, ma non c'è, non devi vietare niente, cioè, infatti avevo tweetato, no? Allora, vieteremo la circolazione ai giganti del ghiaccio, guarda, non ci sono giganti del ghiaccio in giro, vedi come è stato efficace il nostro decreto, non c'era neanche prima. Queste, diciamo, rivendicazioni, che secondo me, che sono del tutto assurde, però secondo me danno un po' la misura del fatto che si tratti di un mondo fondamentalmente molto ostile all'innovazione tecnologica. Ma sì, certo, lì secondo me c'è una gravissima responsabilità del Ministero, cioè, l'Olo Brigida ci ha costruito fino adesso la sua, da quando è stato insediato a... aspetta, dov'è che il Ministero dell'Agricoltura viva il 20 settembre? Di fronte al Ministero dell'Economia. Da quando si è insediato lì, ha costruito la sua carriera, la sua visibilità pubblica, a parte i treni fermati per scendere, sulla lotta contro la carne coltivata, contro la farina di insetti. Come dicevi tu, la carne coltivata è un tema che riguarderà, se riguarderà mai qualcuno, il futuro prossimo, neanche tanto vicino, perché si tratta di sperimentazione. Una delle rivendicazioni è questa, è dire no, definitivamente, e anche lì è impossibile farlo, perché lì siamo soggetti a normativa che non è autonoma, ma è quella europea. Tanto è vero che il decreto l'Olo Brigida è stato bocciato dall'Unione Europea, perché lì non è materia sovrana, con buona pace dei sovranisti, che se ne devono fare una ragione. Quella è una materia europea. Se l'Europa decide, peraltro democraticamente, perché a decidere sono gli eletti, decide che bisogna sperimentare o fare ricerca sulla carne coltivata, un po' come sugli OGM, bisogna farla. Poi tu puoi tranquillamente invitare l'italiano a consumare chianina perché è più buona, è più naturale, ma non puoi vietarla. C'è moltissima ideologia. Quando si parla di questi temi, forse persino più che in altri ambiti, l'ideologia prevale, la semplificazione prevale, la resistenza a qualunque forma di cambiamento. D'altra parte abbiamo costruito tutta una retorica sulla filiera 100% italiana, sulla cucina italiana e sui prodotti italiani che sono i più buoni del mondo e tutto il mondo ci invidia e quindi li vuole combattere e il resto del mondo perché non sono in grado di produrli così come li produciamo noi. Per cui c'è tantissima demagogia su questo. Quando in realtà il tema è tutt'altro che demagogico. Il tema è fare studi affinché si possano trovare modi per soddisfare la domanda globale, mondiale, di alimenti. Qua vengono, fanno notare, chiedono se le aziende biologiche che ricevono sussidi maggiori. Questo dipende dal governo. Allora, se ricordate, c'è stata una polemica, forse sono passati tre anni o forse due, perché all'interno di un disegno di legge il cui scopo era quello di difendere le produzioni bio fu inserito surrettiziamente un emendamento che equiparava il biologico al biodinamico. Me lo ricordo bene. Te lo ricordi bene? Fu quello dove l'unica a votare contro fu la Cattaneo che però poi riuscì a fare tanto di quel casino che intervenne Mattarella. Intervenne Mattarella, perfetto. Ora, per chi non lo sapesse, il biodinamico è un po' come andare dallo sciamano, è un po' come fare di tv-du. Sì, ma l'ultimo anno abbiamo avuto ospite Roberto De Fez che ci ha raccontato delle storie sul biodinamico bellissime. Quindi abbiamo anche parlato al nostro festival a Milano a novembre. Allora, per rispondere alla domanda, come funzionano i fondi? Lo dico in modo molto schematico così che non diventi difficile. Allora, l'assegnazione dei fondi, che sono, ripeto, fondamentalmente due, uno proprio a sostegno al reddito e alle coltivazioni, un altro invece è difesa del territorio, perché, devi sapere Luca, che gli agricoltori sono anche investiti di quest'onore, cioè nel coltivare la terra devono difendere il territorio. A proposito, una delle richieste che vengono fatte per il prossimo tavolo che si aprirà è anche che ricevano dei soldi ulteriori dal governo italiano per questo e che il governo italiano si spenda per combattere i danni provocati alla fauna selvatica. Qualunque cosa voglia questo dire. Per i soldi che danneggiano le coltivazioni, suppongo, cose del genere. Cosa del genere, probabilmente, esatto. Allora, i fondi vengono stabiliti e vengono stabiliti secondo dei criteri equitativi dall'Unione Europea. Fra i criteri, naturalmente, c'è il numero di aziende, c'è l'estensione delle aziende e così via. Questi fondi poi vengono trasferiti al governo nazionale, il quale il governo nazionale fondamentalmente, a seconda di alcune misure, li distribuisce. Il consorzio fa domanda, l'agricoltore fa domanda, in generale il produttore, la cooperativa e così via, fa domanda e ottiene questi fondi. Quindi, infatti, una delle richieste che vengono fatte è che questo meccanismo, anche qui non viene però specificato come, venga ulteriormente semplificato. Probabilmente quello che intendano è che ci sia un meccanismo automatico di distribuzione dei fondi. Non ci sono vie, a meno che il governo incarica per tempo e non lo decida. Non ci sono situazioni in cui il bio viene favorito rispetto al non bio? Il bio viene favorito rispetto al non bio sullo scaffale del supermercato, perché la gente compra bio se può farlo, ed è una scemenza. Cioè, nel senso, il bio non ha proprietà organolettiche migliori dell'agricoltura rispetto ai prodotti convenzionali e non ha sapore migliore. Se non ti dicono che è bio e te lo fanno assaggiare, come dire, ti fanno assaggiare due prodotti senza l'etichetta, tu non sei in grado di dire quale bio. Non l'hanno provato diverse volte. Però bio è una di quelle parole, anzi, non è neanche una parola, è un prefisso, che è in grado di rendere bellissima qualunque cosa. Tanto che se io dico, per fare energia, bruciamo gli alberi, tutti mi dicono, ma sei pazzo? Se io invece dico, ma è biomassa, allora di colpo diventa accettabile. C'è una roba che si studia in conoscenza della comunicazione, il potere della parola bio. Esatto. No, però non c'è nessun favoritismo. Ripeto, a meno che non arrivi un governo che dice che bisogna assegnare più fondi rispetto a quelli ottenuti al biodinamico, al biologico, al bio qualcosa, piuttosto che invece a chi fa produzione di tipo, tra virgolette, molto tra virgolette, tradizionale. Non c'è favoritismo in questo. Allora, la domanda a questo punto è, queste proteste degli agricoltori si risolveranno in un cedimento totale dell'istituzione alle loro richieste e che alternative ci sarebbero? Se domani ci fosse il governo liberi oltre, che cosa rispondereste voi agli agricoltori? Se ci fosse liberi oltre al governo probabilmente andremmo allo scontro fisico con gli agricoltori perché siamo persino contro i sussidi, ragione per cui lo scontro sarebbe ferocissimo e purtroppo a pagarne le conseguenze visto le modalità in cui protestano gli agricoltori sarebbero i cittadini. Per fortuna o per sfortuna non c'è liberi oltre al governo, c'è invece appunto Lollobrigida, Salvini, Meloni e compagnia cantante e credo che gli agricoltori la spunteranno. Il problema sarà veramente cercare dove e a danno di chi. Queste proteste, qualora dovessero sortire effetto, ripeto, una parte, un effetto l'hanno già ottenuto, queste proteste saranno pagate da altri cittadini. Noi a Liberi Oltre riteniamo invece che i sussidi in generale, anche per le ragioni che ho spiegato prima, causano danni. In alcuni casi naturalmente possono essere elargiti e penso appunto alle situazioni straordinarie di shock in cui tu subisci un evento però i sussidi che vengono dal 1962, quindi non da ieri, pagati all'intero settore agricolo hanno fatto sì che l'intero settore agricolo non si sviluppasse, che non si aprisse alla competizione, che chiedesse sempre maggiori sussidi perché senza i sussidi non riesce a resistere. Che ci fosse un freno allo sviluppo, un freno all'aumento della capacità produttiva, alle dimensioni e così via. Quindi noi siamo, come dire, ontologicamente contro i sussidi. Poi in alcuni casi diventano necessari perché, ripeto, se c'è uno shock che può essere quello della pandemia o può essere quello legato al problema dei trasporti che si è generato, guarda caso, dopo la pandemia nei porti cinesi. Allora, in quel caso il governo deve, può intervenire con dei sussidi, di sostegno al reddito, di salvaguardia delle aziende. Ma il sussidio che diventa strutturale, ripeto, dal 1962, fate voi il conto da quanti anni vengono pagati regolarmente i sussidi, è un sussidio che fa male. E secondo te l'Italia dovrebbe semplicemente abbandonare la sua vocazione agricola, nel senso che l'agricoltura è un settore che sappiamo non è ad alto valore aggiunto. Quindi uno dice, ma senza sussidi l'agricoltura italiana non riuscirà mai a competere con quella di paesi con economie meno sviluppate, diciamo, l'olio tunisino costerà sempre meno di quello italiano, il grano ucraino costerà sempre meno di quello pugliese. E quindi, come dire, senza sussidi l'Italia deve semplicemente abbandonare la sua vocazione agricola e diventare un paese importatore. Oppure, invece, secondo te, c'è un modo in cui l'agricoltura italiana può innovarsi e diventare competitiva senza sussidi, senza che spagare sempre gli altri. L'Italia è davvero un paese a vocazione agricola? Forse l'Italia della fine Ottocento era un paese a vocazione agricola. Il Sud era tutto agricolo alla fine del secolo scorso, anzi, due secoli fa. Oggi siamo nel 2024, l'Italia non è più un paese a vocazione agricola, altrimenti la vocazione agricola si vedrebbe nel prodotto interno all'ordo. Perché nel prodotto interno all'ordo, la produzione agricola vale pochissimo, ho detto prima, circa 30 miliardi. L'Italia non è un paese a vocazione agricola. L'Italia è un paese che ha alcune eccellenze agricole. Allora, le eccellenze agricole, la cui eccellenza si vede nel prezzo di vendita, il prezzo che poi viene applicato alla distribuzione, per distribuzione intendo tanto i supermercati quanto, per esempio, la ristorazione. Su quello deve puntare, se vuole essere eccellenza. poiché le eccellenze ci sono in molte delle coltivazioni. La chianina, credo che se la giochi con l'angus, sono un esperto, ripeto. Eh, grazie, Maverick. Chi sa, fra qualche anno. Le eccellenze indubbiamente le abbiamo e giustamente costano di più. Allora puntiamo ad un mercato che non è quello di massa, perché l'olio, suppongo, poi posso essere dimentito, beh, col Kobe non ancora, un nivoro. Tra l'altro, nome nomen. Col Kobe non credo, non credo che la... se la posso dire. No, il Kobe, non penso del Kobe, i tagli più pregiati costano 500 euro, scusa, 1500 euro al chilo. Esatto. Quindi, sono stato al Kobe. Una volta ho pensato di avvicinarmi, ci ho pensato, ho pensato che avrei dovuto fare un altro lavoro per potermi permettere. e quindi no, lì siamo veramente una cosa che è fuori dal mercato. Però, dicevo, le eccellenze italiane ci sono, non dovremmo puntare a vendere le eccellenze, non dovremmo puntare a fare concorrenza al grano ucraino, o all'olio tunisino, o alle arance spagnole. dovremmo puntare su quei prodotti per cui il consumatore è disponibile a spendere di più. Un po' come avviene sul vino, peraltro. Ecco, mi viene da fare questa domanda. Questa idea che tu hai appena espresso così bene, non è un po' in contrasto proprio con l'idea di un ministero della sovranità alimentare? Nel senso che se vogliamo essere sovrani dal punto di vista alimentare, cioè autarchici, cioè produrci in casa tutto il nostro cibo, e allora dobbiamo produrre cibo a basso costo, perché deve poter sfamare 60 milioni di italiani. Se con gli appetiti che sono aumentati, perché noi consumiamo molti più bene alimentari di quanto ne consumassimo i nostri trisavoli, tutta la produzione che abbiamo sarebbe insufficiente. a quel punto, con la produzione insufficiente, tu sai benissimo che cosa succede quando c'è carenza di offerte. Altro che prezzi in basso. Quindi, se noi non portassimo il grano, tra l'altro un altro episodio simpatico, mi ricordo quando il Movimento 5 Stelle scrisse anche lì un emendamento contro il grano saraceno, considerando il grano saraceno, perché si chiama saraceno, proveniente da mercati esteri. Il problema è tutto lì, quando abbiamo una classe dirigente di questa fatta, c'è poco da, c'è soltanto da ridere. Anche sul grano siamo altro che autosufficienti. Sulla carne non siamo per nulla autosufficienti. Mi pare che le stime dicano che noi importiamo il 60% della carne che mangiamo, che ci mettiamo poi a tavola. con il 40% di produzione italiana, il 60% viene dall'estero. E credo che sia così più o meno per tutte le culture. Forse sul vino potremmo essere autosufficienti, ma non ne sono neanche sicuro. Il vino lo esportiamo tanto, quindi forse esportiamo una quantità allucinante, soprattutto negli Stati Uniti. Sì. Ma io sono contento peraltro di bere ogni tanto il vino californiano. E per quale motivo mi deve essere precuso da Rollo Brigida il piacere di gustare un vino cileno o californiano se ho voglia di gustare quei vini. Soprattutto quello di diventare è una cretinata di dimensioni cosmiche. Poteva avere senso e non l'aveva neanche all'epoca quando fu fatta la batteria del grano da parte di Mussolini. E anche allora non aveva molto senso. Però insomma, in qualche modo, l'autarchia era veramente un obiettivo. Oggi è veramente una cosa che è fuffa. E ti faccio un'ultima domanda. Secondo te gli agricoltori sono a me sembra che comunque abbiano le idee molto confuse. Nel senso che alcuni rivendicano cose che alcuni vorrebbero delle cose e altri chiedono l'esatto contrario. Come dicevo prima alcuni hanno detto l'Europa impone lo stop ai pesticidi ma allo stesso tempo non consente gli OGM e io su quello posso anche essere d'accordo però quello che marcia a fianco a lui è lì con il cartello il cibo sintetico quindi alcuni vorrebbero più innovazione per essere più ottimali altri vorrebbero meno innovazione per non dover cambiare di fatto perché difendono quello che è stato il loro modello di business fino ad ora. Non c'è in qualche modo la possibilità di dividere questo fronte di parlare cercare di parlare con i più ragionevoli e magari ci sogniamo. bisogna trovare quelli più ragionevoli però bisogna individuare quelli più ragionevoli non so se è facile individuare in una piazza urlante che getta per l'estate o qualcuno di ragionevole probabilmente c'è una cosa su questo sono sicuro che siamo su tante altre cose d'accordo il ruolo di col diretti col diretti col diretti ha assunto una posizione molto allatere in questa proposta infatti non la si vede fondamentalmente anche se col diretti poi di fatto è il principale player nel settore agricoltura anche quando si devono prendere decisioni di di legislazione sappiamo l'ingerenza che ha col diretti sul ministero e anche le pressioni che è capace di fare sul parlamento col diretti curiosamente in questo caso è abbastanza silente segno secondo me che è contenta che ci sia una protesta diffusa ma non vuole come dire entrare con le proprie istanze nella protesta è contenta insomma che iscritti e non iscritti a col diretti facciano pressione sul governo e sull'Unione Europea quindi il problema il problema è che poi se devi trovare un interlocutore alla fine lo trovi in col diretti anche se adesso pare che il presidente di col diretti sia destinato ad entrare ad essere candidato al parlamento europeo vedremo andiamo bene dalla Lega immagino da chi se no e c'è sì ha ragione a Sumi 10 sul lavicolo siamo autosufficienti questo me lo ricordo perché l'ho letto un po' di tempo dietro sulla produzione agricola siamo autosufficienti sul resto delle carni rosse non siamo assolutamente autosufficienti ok io sapevo che quando ero stato in Irlanda mi avevano detto che l'Irlanda è considerato uno dei paesi diciamo avvantaggiati dal punto di vista del riscaldamento globale in quanto è autosufficiente dal punto di vista della produzione di cibo e climaticamente non dovrebbe prenderle troppe sfighe e in più non dovrebbe risentire dell'innalzamento di livello del mare perché è sì un'isola ma è sufficientemente le scogliere sono sufficientemente alte e lì ho scoperto che l'Irlanda è praticamente l'unico paese europeo dell'Unione che è completamente autosufficiente dal punto di vista alimentare anzi produce più cibo di quello che consuma ed esporta verso altri paesi sono anche pochini gli irlandesi ricordiamo anche che un paio di carestie l'hanno pure avute negli anni passati negli secoli passati va bene niente io ti chiederei costa di fare un po' un riassunto di quello che secondo te è la protesta degli agricoltori come fenomeno diciamo sociale nel senso che magari sbaglio io la vedo un po' inserirsi in un generale diciamo contesto di proteste molto confuse contro il sistema che non è chiarissimo chi sia il sistema perché in Italia c'è il governo conservatore e gli agricoltori protestano in Francia c'è il governo liberale e gli agricoltori protestano in Germania c'è il governo socialista socialdemocratico e gli agricoltori protestano quindi di preciso che minchia che cosa che governo volete ho idea che sia un generale ho visto anche molti richiami alle multinazionali queste multinazionali cattive che però di nuovo quali nello specifico che cosa hanno fatto quindi non lo so vorrei una tua analisi diciamo sociologica mi verrebbe da dire su questo fenomeno e poi andiamo in chiusura no guarda quando non si sa con chi prendersela ce la si prende con il nemico immaginario di solito il nemico immaginario sono le multinazionali perché le multinazionali non si sa quali sono in generale me la prendo con qualcuno che al di fuori di me tanto è difficile da individuare ma c'è c'è non soltanto veglia ma agisce contro me piccolo produttore me piccolo trasportatore me piccolo in generale allora secondo me l'insegnamento che possiamo trarre da questa andata di protesta ed è un insegnamento che paradossalmente può essere può giustificare la protesta agli agricoltori che io assolutamente condanno soprattutto nei modi in cui viene viene portato avanti e che stiamo avviando un periodo di grandissime trasformazioni in cui l'Unione Europea non sa o non è ancora capace di fare ciò che ha intenzione di fare la transizione energetica l'espansione del bilancio gli obiettivi molto stringenti che sono stati dati che sono obiettivi decisi attraverso la mano politica non attraverso la mano del mercato io sono convintissimo che sulla transizione energetica si sarebbe arrivati comunque alle decisioni che sono state prese due anni fa sono convintissime semplicemente lasciando le aziende libere di innovare libere di cercare nuovi spazi di mercato invece il fatto che siano stati imposti questi cambiamenti e siano stati dati a questi cambiamenti degli stop dei periodi molto ristretti genera preoccupazione indecisione voglia di protestare alimenta in qualche modo anche il populismo e vedi che cosa sta succedendo con l'automobile tanto per fare un altro esempio dove anche lì le aziende tedesche soprattutto e noi dipendiamo fortissimamente dalle aziende tedesche hanno oggettive difficoltà di inseguire la scelta politica anche perché vengono da decenni in cui hanno dovuto investire massicciamente per inseguire le scelte politiche magari corrette perché sono corrette beh insomma diciamo che le scelte politiche della politica industriale ed energetica tedesca sono state molto suicide quelle ultime assolutamente suicide quelle ultime tu lo sai meglio di me sono state veramente di una delle ragioni principali per cui le aziende tedesche e la manifattura tedesca fatica hanno dei costi dell'energia che li rendono non competitivi e poi chiaramente su questo si inserisce tutto il discorso dell'automotive ma come dire in questo momento Volkswagen ha aperto uno stabilimento in Canada perché in Germania non ci stava più con i costi dell'elettricità esatto e allora l'insegnamento comunque il quadro dell'insieme che possiamo trarre da queste e da altre vicende è il seguente la politica quando decide sulla base di obiettivi ideologici di solito fa danno se invece di decidere su base ideologica decidesse su base tecnico-scientifica probabilmente arriverebbe in modo diverso in modo più efficace agli stessi risultati senza generare il malcontento che diciamo è diffuso con l'obiettivo delle elezioni europee prossime avventure di giugno io sono abbastanza spaventato che l'ondata di risentimento nei confronti dell'Unione Europea venga poi tramutata in voto di protesta nelle urne ma di questo devono dolersene anche i legislatori europei anche la commissione io passo per l'ultraeuropeista e credo anche di esserlo però gli errori sono lì e sono visibilissimi passo anche per filo germanico però gli errori dei governi tedeschi quelli che sottolineavi i tubuli sono follie sono suicidio sono autoflagellazione e questo purtroppo è vero io tra l'altro a mia volta mi considero un europeista ma non perché sono favorevole alle politiche che vengono fatte in Europa ma perché vorrei una politica europea seria e vorrei una politica seria a livello europeo non a livello nazionale cioè vorrei che l'Europa imparasse a essere sono sono quasi un nazionalista europeo io da quel punto di vista però Luca faccio un esempio perché stavo lavorando ad una cosa perché poi più tardi più tardi devo parlare del discorso cioè dell'intervista rilasciata da Putin in particolare alcuni passaggi che ha fatto di economia Putin quindi stavo controllando dei dati prima di andare in onda Putin dice l'economia cinese è la più grande del mondo a parità di potere d'acquisto quindi questa differenza è fondamentale perché altrimenti sarebbero ancora gli Stati Uniti i primi nel mondo il prodotto interno all'orde europeo a parità di potere d'acquisto è molto vicino a quello degli Stati Uniti quindi siamo terza economia come europea e come Unione Europea terza economia mondiale molto vicina a quello degli Stati Uniti quindi immaginate quanta forza avrebbe l'Unione Europea se fosse unita per davvero e non soltanto nei trattati come capacità negoziale come capacità di incidere come capacità di fare scelte lungimiranti perché siamo oggettivamente una potenza mondiale finché ragioniamo all'unisimo sono assolutamente d'accordo e peraltro insomma poi l'economia cinese in questo momento si avvia ad una fase di forte declino per cui oggi è così ma tra 15 anni la Cina avrà un paio di cetrioli interessanti da gestire a livello demografico soprattutto per cui insomma bisogna vedere come reggerà e vedremo quello che succederà alle elezioni europee io temo che il voto di protesta ci sarà sarà molto forte esatto condivido eh se verizzato un attimo Luca sì il voto di protesta probabilmente sarà molto forte bisogna vedere quanto forte in particolare mi fanno paura tanto per cambiare le voci che arrivano dalla Germania con la FD in robusta crescita eh è il timore che si apra un fronte con l'unione di partiti anti-europeisti con spinte anche della destra peggiore qui è un della destra moderata più o meno liberale eh o comunque agganciata ai valori ai valori che abbiamo sottoscritto ma la destra peggiore che quei valori li rifiuta e li combatte e bene sono rimasto solo addirittura Luca servizzato è rimasto solo esce e penso che adesso rientrerà e per tornare un attimo alla questione economica dicevo l'Europa è la terza che succedeva ecco tornato no stavo dicendo che anch'io temo che ci possa essere un voto di protesta all'europea e visto gli errori che hanno fatto i governi suppostamente progressisti in Europa negli ultimi dieci anni come dire il voto di protesta resta sbagliato però porca miseria noi diamo questioni a questi che protestano anche perché quelli che protestano non è che sono tanto razionali anzi no no quelli che protestano non sono non sono dalla loro parte non sono dalla parte di chi protesta adesso mi stavo più riferendo al voto di protesta e il voto di protesta resta una scemenza e sicuramente non risolve niente perché poi porta al potere degli ignobili cazzari più che altro resta il rimpianto di cosa sarebbe potuto andare diverso diversamente se chi ha avuto il potere negli ultimi dieci anni avesse fatto delle cose in maniera razionale non ideologica esatto è proprio questo il punto proprio questo il punto bisogna togliere argomenti a chi protesta prima citavo quando tu ti sei frizzato citavo la Germania ancora una volta da cui arrivano probabilmente le spinte più pericolose con l'AfD in robusta crescita dicevo e tra l'altro con una piega ulteriore che sta prendendo l'AfD che non è soltanto antieuropeista è agghiacciante esatto è saltato fuori questo documento che loro vorrebbero espellere tutti i cittadini di tutti quelli di origini di origini estere persino se in possesso di passaporto tedesco cioè è veramente una cosa assolutamente razziale proprio non conta più neanche la provenienza cioè il passaporto conta proprio l'identità razziale è una roba che veramente ha un sapore di anni 30 del secolo scorso una roba veramente inquietante esatto esatto però a questi sciroccati a questi pazzi a questi razzisti chiaramente le scelte ideologiche dell'Unione Europea danno benzina danno carburante purtroppo è così e su questa nota un po' amara io vado in chiusura così anche perché tu puoi sei di nuovo live alle 21 21 e 30 21 e 30 sul canale di Liberi Oltre e quindi giustamente hai anche il diritto di cenare con calma noi ci riaggiorniamo prossimamente io ho già detto che sarò il 24 la manifestazione a Milano per l'Ucraina quindi credo che ci vedremo lì quindi niente anche chi del pubblico fosse a Milano vi ricordo che il 24 scendiamo in piazza due anni dall'inizio della guerra per ricordare a tutti che Putin è un criminale di guerra e ci sarò anche io e auguro a tutti una buona serata ringrazio Costa per aver fatto un po' di chiarezza su questo movimento molto confuso di protesta degli agricoltori e auguro a tutti una buona serata e una buona settimana grazie a te e un saluto a tutti ciao